Rapposelli, arrivano nuovi immigrati a Pescara, qui nella zona di Pescara Sud, due passi dello stadio. Oggi avete organizzato questo banchetto per dire no a questi nuovi arrivi. Perché? Noi con questo presidio permanente vogliamo bloccare questa iniziativa, ma ripeto, non perché siamo contro a questa attività di accoglienza, ma riteniamo che il sindaco non si sia espresso e non abbia soprattutto dato suggerimenti e indicazioni al prefetto, il quale prefetto, come altissimo funzionario dello Stato, qual è, non può fare altrimenti se non in assenza, come in questo caso, di indicazioni da parte del sindaco. Sono immigrati e non profughi perché in gran parte non fuggono da guerre o da persecuzioni, certamente fuggono da condizioni economiche disagiate. Ecco, in queste condizioni economiche disagiate però l'Italia non può accogliere tutto il mondo o tutta l'Africa e certamente non lo può fare Pescara. Se poi l'assenza perdurante di un sindaco che è stato certamente avvisato dal prefetto di questa necessità fa in modo che una cooperativa X sfrutti la volontà esclusivamente imprenditoriale di un albergatore e riempia all'inizio della stagione estiva al centro della Riviera Sud in mezzo alle case fatte con tanti sacrifici dei pescaresi e quasi di fronte al porto turistico un albergo di profughi, non solo non si sta aiutando questa gente ma certamente si sta danneggiando Pescara. Il nostro è un no assoluto perché riempire un albergo sulla Riviera Sud all'inizio della stagione estiva di profughi per una città turistica è una follia.